ciao a tutti e benvenuti su cantare arimbi mi presento io sono alessia ma potete chiamarmi ale in questo video vediamo un regalo che mi è stato fatto ieri sera e che voglio consigliarvi subito perché potrebbe essere un bellissimo regalo di natale per i miei canterini potete regalarlo o farvelo regalare a un prezzo irrisorio ed è super 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 divertente e per quello praticamente l'ho provato cinque minuti ieri sera sono fatta un sacco di riedate mi sono divertita un sacco e stamattina sto già filmando velocemente per farvelo vedere perché è una figata pazzesca di cosa sto parlando di un super microfono ma con una marcia in più ve lo faccio vedere allora chiaramente vedete benissimo che questo trattasi di microfono ma che cosa ha di speciale questo microfono è esattamente tutto questo ambaradan che vedete qua che come potete ben immaginare a parte i tasti che vedete è una cassa cioè praticamente vi spiego la genialata microfono la voce esce direttamente da qua avete i tasti per controllare volume l'eco avete l'eco all'interno il volume della base perché perché voi collegando il vostro telefono il vostro pc computer o mac qualsiasi cosa abbiate via bluetooth con questo fate partire una base di karaoke e si sente da qua mentre voi cantate qua cioè da qua sentite voce e base assieme potete regolarne i volumi avete appunto l'eco avete dei simpaticissimi effetti per la voce che fanno la voce oppure così che vabbè per l'utilità ok però comunque praticamente potete fare il vostro karaoke senza bisogno di nient'altro che questo è il vostro cellulare siete amplificati cioè io non ci posso credere allora è un microfono ricaricabile via usb quindi non va a batterie una bomba come il cellulare ok poi sotto qua cosa avete c'è l'entrata per le cuffiette vuol dire che voi potete cantare tutto quanto con la vostra base e la vostra voce amplificata con l'eco e sentirlo nelle vostre cuffiette cioè vi potete fare cantarvela e suonarvela nelle vostre cuffiette senza disturbare più di tanto nessuno in più avete la questo è l'attacco ovviamente per ricaricare questa è l'entrata per la schedina sd cosa serve potete caricare dentro la schedina le vostre basi cioè se sapete le parole a memoria potete caricare le canzoni e andare avanti indietro con le vostre basi e cantare adesso vi faccio vedere come funziona però non posso mettere la base da qua perché sto usando il telefono per registrare e quindi metterò la base da dietro ma vi faccio sentire come esce la voce perché sinceramente allora questo è un microfono non è un microfono professionale è costa al costo intorno ai 30 euro lo comprate su amazon per quello che ho speso e per quello che è sinceramente il suono esce bene cioè pensavo uscisse a radiolina invece ci sta proprio una figata insomma vabbè mi vedete entusiasta lo userò ogni 5 minuti liberi che ho basta vi faccio vedere come funziona tenete conto che la base è dal computer ma che potreste farla partire da qua avete anche il volume per la base volendo volume del microfono ecco io ne metto poco perché da un po fastidio se no e il volume della musica che mettiamo a zero vado con oh happy day ve la dedico per natale ok spero che vi piaccia oh happy day oh happy day oh happy day when jesus washed oh happy day oh happy day oh happy day La 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 Oh, happy day is when Jesus washed, when Jesus washed, when my Jesus washed, He washed my sins away. Oh, He taught me how to wash, to wash, to fight and pray, and He told me how to live, rejoice in, oh yes, Sing it, everybody Every, every day Sing it, sing it Come on and sing it Happy day Oh, happy day Yeah When Jesus was When my Jesus was When Jesus was My sins away Sing it, sing it, sing it Come on When sing it, sing it, sing it Happy day Oh, happy day Niente ragazzi, vi ringrazio infinitamente Per essere stati con me Vi ricordo il progetto di We Are The World Per partecipare vi metto il link al video qua sotto Lì c'è scritto tutto anche nella description box Fate presto perché al 5 dicembre Credo che finisco il video Perché lo vorrei caricare per l'8 dicembre Scrivetemi qua sotto nei commenti Che cosa desiderate ricevere per Natale Io l'ho già ricevuto Mi piace un casino questo giochino qua Basta volevo ringraziarvi Vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi E di schiacciare la campanella per le notifiche Quando carico i nuovi video Lasciate pure qua sotto tutti i commenti che volete Vi ricordo che sono anche su Instagram E su Facebook Su? Facebook? Chi è? Facebook Sempre cantare R&B Vi mando un grande bacio Muaah Grazie a tutti.